Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e oggi ragazzi posizione dei fuochi d'artificio che dovremmo far partire per la sfida di oggi del 4 luglio ovviamente super super a tema. Il primo ragazzi lo troverete proprio in questo punto dove vi metto questo spray vicino alla barchetta dove c'è la barca gigante di Laguna Languida. Quindi vi avvicinate, premete il tasto che utilizzate per raccogliere e lanciate il fuoco d'artificio. Attenzione perché se questa sfida è come quella che avevamo già visto un po' di season fa dovete essere i primi a farlo altrimenti non ve lo conta. Per quanto riguarda il secondo fuoco d'artificio non è molto distante. Come vedete abbiamo percorso tutto il sentiero che ci porta fino alla cascata. Voi dovete non andare dove c'è la cascata principale ma dovete recarvi proprio in questo punto dove vi metto un altro spray. Eccolo qua ragazzi troverete esattamente qui il fuoco d'artificio. Numero invece raggiunge e risponde del saccheggio per il terzo e ultimo fuoco d'artificio. Si trova esattamente tra la macchina con il carrello e il camper vicino alle tre tavole da surf dove vi ho messo lo spray. Troverete ragazzi il terzo fuoco d'artificio e potrete completare la sfida sbloccando il vostro premio. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 15 con il video del Fort White. Ciao! Noo! Noo! Noo!